Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come La nuova fiamma di Totti è completamente rifatta e somiglia tantissimo alla Blasi. Ecco la foto prima dei ritocchini.Noemi Bocchi e Francesco Totti Il matrimonio tra Ilari Blasi e Francesco Totti è ormai giunto al termine e a comunicarlo sono stati i due singolarmente tramite delle note Ci sarebbe già un'altra donna per Totti, ex capitano della Roma, che pare sia Noemi Bocchi La separazione è stata comunicata la sera di lunedì 11 luglio e così i due hanno confermato quelle che erano le indiscrezioni riportate da D'Agostia e da Chi Già lo scorso febbraio c'erano stati delle prime indiscrezioni sulla una possibile crisi tra Totti e Blasi, poi però smentita, ma già allora comparse il nome di Noemi Secondo i vari gossip che circolano Noemi Bocchi ha 34 anni ed è molto tifosa della Roma Laureata economia aziendale e bancaria alla LUNSA Libera Università Maria Santissima Assunta, lavora ad oggi invece come Flower Design Noemi sarebbe anche appassionata di Padel, proprio come Francesco, ed abita ai Parioli e si sta separando da Mario Caucci con cui ha avuto due figli, di 10 e 8 anni Non si hanno molte altre informazioni anche perché la donna ha il profilo Instagram privato ed è quindi impossibile vedere ciò che posta se lei non accetta la richiesta Noemi la nuova fiamma di Totti è uguale a Ilari, è tutta rifatta Quello che però è saltato all'occhio di tutti è l'impressionante somiglianza con l'ormai ex di Francesco Totti, Ilari Blasi Anche Noemi infatti ha dei capelli biondi lunghissimi come la conduttrice romana, e anche se entrambe sono ricorse alla chirurgia per aggiustare qualche piccolo difetto, la somiglia è davvero incredibile Entrambe sono due donne che amano essere in forma, se l'ex di Totti preferiva lo yoga, la nuova fiamma invece per tenersi in forma ama praticare Padel Ed è proprio qui che pare abbia conosciuto Francesco Totti.Noemi Bocchi Sui social in molti hanno notato un viso perfetto frutto molto probabilmente dei tanti ritocchini, per questo poi la tanta assomiglia con la Blasi Si ipotizza infatti che Noemi si sia rifatta naso, zigomi, labbra e forse anche il seno Insomma una bellezza frutto di tanti aiutini estetici ma sul web si trovano davvero poche foto della nuova fiamma di Totti per avere la certezza che davvero Noemi Bocchi si sia sottoposta a trattamenti estetici chirurgici Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video